Ad una settimana dall'incendio che ha mandato in fumo l'ambulatorio di elettroencefalografia ed elettromiografia si cerca di ritornare alla normalità all'ospedale Umberto I. Le strutture sono state danneggiate irreparabilmente e per riavere quei locali occorrerà del tempo. Non vale lo stesso per il servizio ambulatoriale. Quello di elettroencefalografia è stato ripristinato in tempi record anche grazie alla sinergia tra dipartimenti sanitari. Ancora ferma però l'elettromiografia. Quello che in questo momento è penalizzato è l'elettromiografia e stiamo attivando le procedure per acquisire questo tipo di apparecchiatura. Sotto l'aspetto strutturale invece? Sotto l'aspetto strutturale i tecnici stanno lavorando. È probabile che dobbiamo rifare il solaio che divideva l'ambulatorio dell'elettroencefalografia con l'ambulatorio di pneumologia. Fatto questo ripristineremo ovviamente questo tipo di attività. Questo verrà fatto in breve tempo? I tempi ovviamente legati diciamo alla perizia e ai lavori che bisogna fare.